Ed ecco, Fulichino Bastardo! Ma la Fulichetta! Come ti chiami? Come ti chiami? Intervista? Ciro Ciro Cognome? Casta Che professione fai? Cosa ti piace fare nella vita? Sono il venditore di pegole, dici? Eh, che vuoi fare? So che vendi le pegole Eh? Che colore ce l'hai? Viola Viola, poi? Nera Nera Ma so che lui è pure bravo con i motorini Signore, è molto bravo con il motorino, eh? So che alzi la ruota ogni tanto Bravissimo, eh? Ti fai molti sensi unici Eh, uno fai, facci uno fai 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 Successo Facci uno fai Facci,load . Fai there no vabbè lascia la mano di fuori